Apro una parentesi, la chiudo subito però perché non voglio dire niente in realtà, voglio solo dire grazie a quello che sto vedendo. Penso che sia abbastanza sorprendente per una cosa che nessuno voleva ovviamente che fosse pubblica perché non è giusto e perché non è mai la cosa migliore. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che in questo momento evidentemente non riesce a fare da sola è davvero commovente. Volevo ringraziarli uno ad uno e dire che il mio senso di gratitudine non sbaglia, sono anni che penso che in questa parola ci sia racchiuso un po' il senso di quello che è stare al mondo in modo giusto. E quindi quello che mi sento di dire, poi parliamo di cose belle, è grazie. Hai deciso di stare al buio oggi, ti accendo la luce? Ok. No, forse sai perché? Sono partiti i riscaldamenti, quindi vuoi risparmiare sulla corrente? Forse sì, è il caldo che fa. Ok, allora... Partiamo con una bella notizia perché oggi si riparte. Ok. Però ce l'hai tu l'articolo. È il problema adesso. Ok, allora, io ragazzi mi spiace, qualsiasi cosa succeda oggi mi chiedo scusa in anticipo, ok? Grazie ancora, leggo cose che ovviamente non... Vabbè, allora, basta, andiamo avanti. Allora...